Sette barboncini, un dog de Bordeaux, Ettore e un bulldog inglese. In ora sono i nove superstiti di Brisighella. L'inverno scorso, sotto la nevicata che è biancato Faenza e le colline alle sue spalle, il ritrovamento di nove cani, infreddoliti, malnutriti, malati, abbandonati. Nove cani che fortunatamente adesso hanno qualcuno che gli voglia bene e si prenda cura di loro. L'anno scorso a Brisighella, durante l'inverno, il ritrovamento di alcuni cani che erano stati maltrattati. Quindi quanti erano, che cani erano, che fine hanno fatto? Più che di maltrattamento potremmo anche parlare di abbandono proprio. Cioè in un brutto momento quando la neve era molto alta. Questi cani sono stati portati al canile qui da noi, ristorati perché logicamente erano con il fressotto a temperatura e dal freddo. Alcuni di loro, fortunatamente già cinque di loro, perché in totale erano nove portati al canile, e cinque di loro hanno trovato un nuovo amico, non è anche padrone, noi lo vogliamo chiamare amico, che sicuramente, e poi adesso speriamo piano piano anche per Ettore di trovare che è un dog de bordeaux, di trovare un posto adeguato a lui, non solo perché è un dog de bordeaux, ma perché è tanto bravo, è tanto buono, e ha bisogno anche lui di un proprietario. Poi ci sono rimasti ancora due barboncini, uno molto anziano, l'ha però, anche se è molto anziano, ha ancora un po' di tempo da dedicare a un nuovo amico, per cui se magari qualcuno, con un po' generoso, un po' di generosità, volesse venire a vederli, noi saremo molto contenti. È un problema più, cioè la Nora è un cane non abituato alla famiglia, per cui lei non vuole andare al guinzaglio, lei non vuole andare, cioè se c'è la persona, ci sono cani di taglia media, medio grande, e soprattutto cani che dove c'è si vede l'incrocio, o addirittura il cane da caccia, sono i più, sono i più, perché probabilmente questo senso di civiltà che sta acquisendo il normale cittadino quando prende il cane, non lo hanno ancora acquisito e soprattutto quelli che, diciamo, usano ad andare a caccia o a tartuffi. Quando il cane non serve più, loro lo spediscono. Oppure fa un giro anche lungo, magari qualcuno che lo prende, e poi però non rimane, perché se non dà, cioè il cane da caccia deve comunque essere un animale che il cacciatore si aspetta delle, cioè che sia bravo dei risultati e cose di questo genere. Francesca Diletta per Firenza Web TV